adesso dico come si lavano i denti secondo me roni rocone a polvere questa cosa mi fu insegnata dalla maestra delle scuole elementari della quinta elementare che neanche non ricordo come si chiama mi ricordo come mi sembra fosse di osmo vabbè appare questo giuseppina forse vabbè i denti non si lavano così perché sono fatti come di tutte striature verticali io parlo molto papale papale perché non ho competenza in materia sono fatti come tutte striature verticali e lavandoli così lo sporco si va a sedimentare tra una striatura e l'altra i denti dovrebbero lavarsi su e giù su e giù così questo sempre secondo me su e giù su e giù